Ciao a tutti, oggi è mercoledì 26 luglio 2023, siamo qui nella vigna dove faccio l'orto, dove ho una parte dell'orto e oggi sono partito a passare la terra per l'orto autunno-invernale. Per prima cosa sono passato con il taglierba, ho un taglierba della goldone, di quelli da montagna che hanno il dente lama, quindi hanno la lama che fa così sotto, non trita la roba e ho fatto un giro e ho tagliato l'erba, non la trita, la taglia e basta. Ho fatto quattro filari, questo l'ho già passato, poi vi spiego, poi ho questo, qui avevo le cipolle da semenze, l'aglione e le fave in mezzo, qui avevo le cipolle che vi ho fatto vedere che ho raccolto con Christopher, trovate il video sul canale, qui avevo delle cipolle che avevo seminato, delle cipolle rosse che avevo seminato l'anno scorso, il 15 di agosto, poi messe a demora a ottobre, solamente che erano andate tutte insieme, erano le cipolle rosse che avevo preso dai tre sementi, ho raccolto la semenza con Christopher e poi l'ho tagliato l'erba. E qui invece, nell'altro filare, avevo messo della cima di rapa, che poi ho raccolto il seme, avevo messo della lattuga sant'anna, della lattuga romana, che l'anno scorso l'ho messa tipo novembre, è stata qua tutta l'inverno, la sto andando in seme, dopo raccoglierò il seme e poi ci taglio anche qui, comunque come potete vedere qui, ho tagliato tutto con il dente lambe della Goldoni, e poi oggi ho cominciato a preparare la terra in un filare, perché ne faccio una al giorno perché è un lavoro abbastanza pesante, allora oggi ho tagliato, ho fatto questo e ho passato. Allora, ci sono tante tecniche in agricoltura per gestire il terreno, tante tecniche agricole, e ognuno deve trovare quella che si addice più a lui, al suo modo di lavorare, al tempo che ha, a quanto riesce a dedicare all'orto, al terreno che ha, a quanta pioggia cade dove abita, eccetera. Noi qui vicino Parma abitiamo in una zona appenninica dove piove poco, nel senso di estate è difficile che piova, perché qui ci sono dei monti dietro, nella parte dietro qui, che dividono le correnti d'aria perché ci sono due fiumi, e allora l'acqua di solito tende ad andare più verso l'altra vallata o oltre questa vallata qua, quindi qui è difficile che piova, ieri sono venute proprio, è piovuto abbastanza, però per dire, qui dove abito io sono venuti, non so, la butto le 10 mm quadri, 10 mm quadri di acqua, mentre là dove lavoro ne sono venuti, non so, 30, è piovuto molto di più, e infatti ne ho approfittato oggi per passare la terra. Quello che vi volevo dire è che io apprezzo molto la gente che lavora la terra a mano, che ho con la grillinetta o con la forca vanga, metti tanta pacciamatura, riesci a gestire la terra con pochissime lavorazioni, io la apprezzo molto. Mi sarebbe piaciuto anche a me fare così, ho provato diverse volte, ma faccio molta fatica, col terreno che ho, con quelle metrature che voglio lavorare e poi devo fare, nel senso io faccio tutto per autoconsumo, però io e la Veronica mangiando esclusivamente verdure, cereali, legumi, anche se i legumi una parte li acquistiamo, i cereali, le verdure, cerchiamo di mangiare molto delle nostre, quindi occorre un bel appezzamento per l'orto e io negli anni ho scelto di lavorare con il motocoltivatore. Ne ho due, ne ho uno per tagliare l'erba col dente lama che vi dicevo prima e poi ne ho due, ho questo qui con l'altro rotativo, che è un carraro molto vecchio, una carrarina si chiama il modello, 10 cavalli, piccolina, e dove ho montato questo l'altro rotativo che poi vi spiego come funziona, e quindi due volte all'anno passo la terra, dove voglio fare l'orto, in questo caso ho passato l'orto oggi pomeriggio, cosa ho fatto? Primo ho tagliato come vi dicevo e poi con l'altro rotativo ho passato, adesso vi spiego un po' come funziona l'altro rotativo. Allora, si chiama l'altro rotativo, però non è un vero e proprio l'altro, non ha un vomere che ha rivolto alla terra, questa spirale qui gira, gira in tondo, e rovesce la terra, però più che rovesce la lancia, quindi il primo giro crea diciamo il solco, che vedete, quindi va giù pochissimo. Il secondo giro, l'ho lasciato il motocoltivatore così lo vedete inclinato, si inclina, riesce a togliere più terra, e la lancia di fianco, quindi non è il massimo perché va a mescolare gli strati, eccetera, però è il compromesso che ho scelto da adottare. In questo caso va giù circa 20 cm, perché c'è abbastanza duro il terreno, e poi lancia la terra da questa parte, così. Chiaramente tengo sempre un 60-70 cm dalle piante da frutto della vigna, di qua e di qua. comincia qui diciamo il solco, per salvaguardare le piante da frutto che vedete, le viti, eccetera. E quindi faccio il primo giro a 60 cm, il primo giro come vi dicevo, l'alato sta molto molto dritto, quindi rovesce a poca terra, il secondo giro la si inclina di più e va più in profondità. E' la comodità grande e autorotativa che se avete molte erbe, principalmente graminia, se voi fate un giro, quindi fate un solco, e il giro dopo, spedete il motocoltivatore, fate un giro con la zappa, prendete la graminia, tipo la togliete e la buttate in mezzo al filale, come ho fatto l'anno scorso, l'anno dopo vi trovate con pochissima graminia, perché l'anno scorso qui c'era erba, c'era magese da tanti anni, e allora tutta la graminia l'ho tolta, perché viene lanciata di fianco, voi a ogni giro passate, prendete questo, lo buttate nel filare così, nel giro di un anno trovate tutta la graminia. Infatti quest'anno, dopo vi faccio vedere anche gli altri filari, non ce n'è. e quindi fate un giro con l'altro rotativo, fate le passate che occorrono per coprire la parte, se dovete togliere la graminia fate un giro, vi fermate, togliete la graminia e poi un altro giro e via. qua c'è una cipolla. E l'unico, diciamo tra virgolette, problema dell'altro rotativo è che è come ogni aratro, la versione coio è fissa, non si gira. e in pratica non si può, cioè bisogna andare giù, andare giù lavorando e venire su a marcia indietro senza lavorare, perché non consente di girare il vomere. ci sono le ultime versioni che hanno una leva che gira il senso, così potete andare giù in una maniera, girare il vomere e tornare su. sempre nello stesso solco, perché se io vado giù così e su dall'altra parte, in mezzo mi viene una conca, perché dopo questo solco mi viene in mezzo, quindi il campo tende a fare un avvallamento centrale, mentre se voi avete l'altra versione lo girate eccetera. Io adesso ho fatto questo giro qui e poi la prossima volta che piove, anche tra una settimana o dieci giorni, faccio, do un'altra passata nell'altro senso, adesso sono andato in giù e buttavo di qua. Il prossimo giro vengo in su e butto di là, così vado a riempire questo buco. E poi faccio un giro con la zappatrice in modo da tirare tutto dritto. perché altrimenti rimane questo fosso da una parte o dall'altra. Se invece io ci passo con la zappatrice, la zappatrice livella tutto e mi viene il tutto bello spiano, bello dritto e non ho questi avvallamenti. Vi faccio rivedere un attimo il motocoltivatore, ma è molto semplice, la lato rotativo, questo qua è un Berta ma li fanno in tante marche, vecchio questo qua, c'ha degli anni. Io l'ho preso e usato tre o quattro anni fa, ci avevo dato una cantata al motocoltivatore con questo. Vi trovate tanti video su YouTube che vi spiegano. e anche qui ho lavorato con questo l'anno scorso, qua c'è già passato, qui c'è già passato, c'ho passato l'anno scorso e in questo periodo per la prima volta che ho tolto la gramigna, facendo un giro, togliendola, un giro togliendola, l'ho buttata qua. Infatti questa, quella che vedete qua, questa, è la gramigna che era qua l'anno scorso, che io ogni giro mi fermavo con la zappina, buttavo qui, poi facevo un'altra passata, la gramigna che c'era la buttavo qui e via. Facendo così, bene o male, di gramigna non ce n'è quasi più, ce n'è pochissimo, si vede bene. Bene, e qui ci ho passato due volte però, qui per dire ho passato una volta e basta, perché qua tipo ho messo l'insalata, però vedete che ci sono altre erbe, ma di gramigna ce n'è veramente poca, per dire che non ce n'è. Quindi se dovete partire a bonificare tra virgolette un terreno, vi consiglio di usare questa tecnica che è valida. E qui, qui in questo filare non ci sono ancora passato, non ho mai lavorato perché è vicino, è vicino alla strada e poi c'ho i paletti del recinto elettrificato che metto, che attivo a settembre e lì è tutta gramigna. Ed era così anche qua, era così, è parte che si vede, qui non sono passato con il motocoltivatore, perché per la via della zona di rispetto per le piante da frutto e la vigna, si è pieno di gramigna. Quindi io la reputo una tecnica interessante. Io cerco di farvi vedere un po' le tecniche che utilizzo io, come lavoro, posto a voi provarle, capire, capire se possono fare il caso vostro, eccetera. Io cerco di essere trasparenti, di farvi vedere tutto, un po' sia gli errori, sia le cose buone che ho fatto, così poi ognuno trova le proprie conclusioni e cerca di fare del proprio meglio. Quindi volevo solo farvi vedere questa tecnica che mi ha consentito di migliorare e di riuscire a lavorare più terreno, visto che io ne ho qui e senza faticare tanto, da virgolette, perché chiaramente lavora il motocoltivatore, vabbè c'è da faticare a tenerlo premuto, ma il lavoro grosso lo fa lui e la terra viene a bella fine. Già con una passata perché c'è un po' d'erba sotto, però la terra si muove bene. Poi la prima passata, se poi fosse piovuto di più o siete in una zona dove piove di più, riuscite ad andare ancora più giù e diciamo che il fondo viene lavorato meglio, eccetera. Se avete qualcosa da chiedere, scrivete pure nei commenti o iscrivetevi al nostro gruppo Telegram o in alternativa, non lo dico mai, ma se passate da Parma o abitate vicino a Parma, io abito in provincia verso sulla Parma la Spezia, vicino a Fornovo di Taro. Passate di qui, mi venite a trovare, un pomeriggio facciamo qualche lavoretto insieme, facciamo due chiacchiere e io sono sempre felice di conoscere nuove persone, di scambiare opinioni. Ho conosciuto tante persone in questi anni che sono diventate i miei amici, così. Non sto qui a farvi la lista perché se no dopo mi dimentico qualcuno, sicuramente non voglio dimenticarmi nessuno perché ho conosciuto tantissime valide persone che apprezzo molto, mi hanno insegnato molto e che saluto, che so che mi seguono e seguono il progetto. Molti sono dentro anche il progetto. Quindi vi saluto, grazie, grazie mille e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao.